Ciao a tutti gli appassionati di gossip e delle ultime notizie, benvenuti su Gossip Newsita. Oggi abbiamo un aggiornamento mozzafiato su Chiara Ferragni, la famosa imprenditrice digitale al centro di scandali e rumors di separazione da Fedez. Pronti a scoprire tutti i dettagli? Continuate a guardare. Il 3 marzo è una data da segnare in rosso, perché Chiara Ferragni finalmente si svelerà in tv dopo mesi di misteri e speculazioni. Ha accettato un'intervista esclusiva con Fabio Fazio a che tempo che fa su 9. Cosa ci dirà di fronte alle telecamere? Pare che affronterà lo scandalo legato al Pandoro Balocco e altre collaborazioni sospette, che l'hanno messa al centro dell'attenzione dell'antitrust e ora di fronte a accuse di truffa aggravata. Insomma, il fuoco dei gossip è ben acceso e le recenti acquisizioni della Guardia di Finanza in società come Oreo, Dolci Preziosi e Trudy stanno alimentando ulteriormente la fiamma. Ma non finisce qui, perché le voci sulla sua presunta separazione da Fedez stanno facendo scalpore sui giornali di gossip. Si dice che il rapper abbia lasciato la casa coniugale a causa delle tensioni legate ai problemi legali della moglie. E i suoi post sui social? Parlano chiaro? Fedez ha condiviso video che sembrano suggerire che non sia più nel loro attico coniugale, aggiungendo un altro tassello al puzzle delle speculazioni. Nel frattempo, su Instagram, Chiara Ferragni chiede consigli sul colore dei capelli e mostra il figlio Leone, 5 anni, che dorme nel suo lettone matrimoniale, come a confermare le voci di una possibile separazione. Insomma, ragazzi, questo è un concentrato di scandali, misteri e gossip che non possiamo assolutamente perdere. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Gossip e News Ita, lasciare un bel mi piace e commentare con le vostre opinioni sia qui sotto che alla fine del video. Vi ringraziamo di cuore per il supporto e vi aspettiamo al prossimo aggiornamento. Grazie per aver guardato e alla prossima con nuove news scottanti su Gossip e News Ita. Grazie per aver guardato e alla prossima.